Gli ultimi fatti di cronaca hanno riportato la pericolosità di quel punto, di quello snodo cruciale di via Pertini e via 4 novembre. Una rotatoria nella quale abbiamo visto in questi mesi tantissimi incidenti anche molto pericolosi, fra poco riapriranno anche le scuole quindi molti bambini, molti ragazzi la traverseranno non solo dal punto di vista pedonale ma anche la rotatoria con le biciclette per cui va messa in sicurezza e noi con l'interrogazione chiediamo al sindaco se è possibile o istituire un piccolo tratto di senso unico per quelle macchine o quei pedoni, quelle biciclette che vanno in direzione via 4 novembre Palazzo di Vetro Asur tanto per intenderci o comunque modificare il tracciato in maniera che chi entra entra in sicurezza e non si veda incrociato con le strade, con le macchine che invece arrivano da via Sandro Pertini e che quindi fanno l'interquartiere che da quanto è stato aperto anche l'altro tratto è molto più trafficato e bisogna a un certo punto prenderne atto quindi chiediamo alle amministrazioni di intervenire perché è troppo pericoloso così. Ci sono altri punti cruciali, altri snodi un po' così all'attenzione vostra della viabilità fanese? Ce ne sono diversi in realtà che ci vengono segnalati sia a San Lazzaro ad esempio piuttosto che ad esempio su via Gramsci nella rotatoria dove si esce di fatto dall'autostrada e ci si mette per andare verso Pesaro ci sono una serie di criticità che vanno affrontate in questi quattro anni non si sono riusciti, non le hanno fatte insomma chi ha governato fino ad oggi, ci va messo in mano perché poi ripeto gli incidenti sono là a testimoniare che queste strade sono pericolose e quindi vanno fatti tutti quegli accorgimenti anche facendo degli investimenti che mettano in sicurezza pedoni ciclisti e motociclisti e ovviamente anche le auto.